Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su World of Warships Come sempre, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Se volete provare il gioco completamente gratuito, link in descrizione Link che vi darà accesso a due navi premium L'incrociatore Diana, incrociatore di livello 2 sovietico E alla corazzata Warspat, corazzata di livello 6 inglese Più una serie di vantaggi Per ricevere questi vantaggi basterà semplicemente giocare Link in descrizione Oggi andiamo a vedere, saremo in compagnia della Zao, incrociatore di livello 10 giapponese Il mio incrociatore preferito da sempre Siamo anche in compagnia di Wela90 con il suo Benham Il cacciador peniere di livello 9 americano Siamo in un matchmaking con navi anche di livello 8 Sono giusto un paio, qualche livello 9 e poi appunto i livelli 10 Dobbiamo affrontare la portaerei Kaga Noi abbiamo la portaerei Lexington Quindi vedremo anche lo scontro che si andrà a manifestare Cosa dobbiamo dire sullo Zao? Oltre che è la mia nave preferita Oltre che abbiamo la mimetica permanente, speciale, spaziale Secondo me è la mimetica più bella dell'intero gioco Se la gioca comunque con la shimakaze mimetica davvero ben disegnata E questa qui in particolar modo mi piace tantissimo I dettagli sono davvero apprezzabili per quanto mi riguarda Abbiamo bandiere un po' da combattimento e un po' economiche per creare il giusto mix letale Abbiamo cannoni in grado di causare ingenti danni con le HE Con le AP possiamo fare le cittadelle agli incrociatori E possiamo comunque mettere in difficoltà tutte le navi Dei cannoni che veramente io adoro Abbiamo, se siete curiosi di vedere le cittadelle Insomma cercare sul canale è qualcosa Ho caricato in merito Non finisce qui ovviamente Perché lo Zao viene spottato a 9,90 Una rilevabilità dal mare davvero molto apprezzabile Ci sono navi che vengono spottate a molte meno Basti pensare al Minotaur Però fondamentalmente 9,90 è davvero molto buono Non abbiamo il fumo Quindi è una nave che deve stare sempre in movimento Abbiamo i siluri come arma Diciamo come jolly Per poter in qualche modo mettere ancora di più in difficoltà Le navi nemiche Magari noi stiamo scappando Ci apriamo leggermente Ci apriamo nel senso Facciamo in modo che ci sia l'angolo di tiro dei siluri Lanciamo i siluri destra-sinistra E continuiamo ad allontanarci La nave inseguitrice Ovviamente non sa che stanno arrivando i siluri Soprattutto se non ha un cacciatorpe di nere a filtrare il passaggio E di conseguenza potrebbe mangiare Uno, due, tre siluri Un solo siluro della Zao Può mettere in difficoltà qualsiasi nave Perché sono i siluri più devastanti dell'intero gioco Quindi un altro valore aggiunto Di più Abbiamo la ricerca idrofonica Ricerca idrofonica che può essere utile Per eventuali siluri nell'acqua Magari abbiamo il presentimento che qualcuno ha lanciato i siluri sopra di noi Oppure dobbiamo spottare un cacciatorpe di nere vicino Attiviamo la idro E quindi siamo al sicuro Vedete qui abbiamo fatto la prima kill E andiamo Primo sangue Andiamo ad ottenere Ad attivare il talento del comandante speciale Comandante speciale che è presente a bordo Mi ero scordato di dirlo Quindi andremo ad ottenere un consumabile in più Che personalmente mi fa tanto piacere Ancora Cosa abbiamo? Abbiamo l'aero fighter Per cercare di contrastare gli aerei nemici Ovviamente la Zao unisce un'azione di velocità Un'azione di come dire Destra-sinistra Per cercare di evitare quelli che sono i colpi nemici Oppure i bombardieri O ancora l'aero siluranti Quando mettete fuori il caccio Ovviamente la portaerei Ci penserà più di una volta Prima di attaccarvi Vedete che il gioco della Zao È un gioco Vedete 6400 Più incendio È qualcosa di incredibile Anche se fosse stato un Minotaur Sarebbe stato lo stesso Quindi non c'entra Il livello della nave qui È perché proprio i cannoni Sono davvero molto buoni Cosa stavo dicendo? Mi sono scordato I cannoni Un'altra cosa che devo dire Modulo speciale Modulo leggendario Chiamatelo come volete Presente sulla nave Quindi la precisione dei cannoni È massima Solo se ricordo bene 127 metri di dispersione Una nave davvero incredibile Sotto tutti i punti di vista E tra l'altro I cannoni Come detto Hanno una buona precisione Anche senza il modulo leggendario Speciale Avranno comunque una buona precisione Però diciamo che quello speciale Ti dà un qualcosa in più Che proprio noti Quando spari i colpi Sono praticamente tutti uniti E questo ci garantisce Sia Di sparare le HE In modo preciso E quindi Accendere le navi nemiche E quindi fare danni Oppure con le HE E con le AP Possiamo cercare le cittadelle O comunque sia Mettere in difficoltà Quello che abbiamo davanti Siamo nella mappa Non l'ho detto Rifugio Modalità supremazia Dobbiamo cercare di gestire I punti di capo Ovviamente io e il mio compagno Stavamo collaborando Per cercare la tattica Più buona possibile Vedete che qui La Jean Bart nemica È una nave che ha Torrette solo di prua Quindi se lui vuole Sparare a me Deve per forza di cose Aprirsi Per forza Quindi dovrebbe fare Una virata leggera a sinistra E poi Sparare alla mia nave Io potrei sfruttare Quell'apertura Per colpirlo Vedete che qui Comunque Attenzione Una nave che Come detto Ha tanti assi Nella manica Però non ci scordiamo Che siamo pur sempre Un incrociatore Quindi le cittadelle I colpi devastanti Sono dietro l'angolo Dovete avere tanti occhi Perché Non dovete pensare Solo alle navi Che avete davanti a voi Bensì dovete pensare Alle navi Che vi circondano Quindi l'agio Va sulla sinistra Se lui decidesse Di girarsi Ovviamente Potrebbe essere Un problema Sfruttate il vostro Mimetismo A 990 Se siete in difficoltà Se vedete che le cose Non vanno Che i nemici Vi stanno colpendo Non state mettendo I colpi a segno Sono in superiorità numerica Tutte queste cose qui Adottate la tattica Che vi ho detto precedentemente Con Diciamo La ritirata Più siluri E vi salverete Vedete che qui poi Io gioco Molto di anticipo Rispetto ai nemici Voi contate I colpi Che i nemici Sparano a me E quante volte Mi andranno a colpire Nella partita Ovviamente Lo Zao È una nave Che non è che Come dire Ti viene immediato Il gioco dello Zao Devi comunque Giocarci Devi entrare Nell'ottica Che ti devi fermare Quindi devi rallentare Poi devi virare a sinistra Devi cercare di percepire Il nemico Quando sta per sparare Quindi magari Conti mentalmente Ha sparato la John Bart E quindi non so Esempio Mancano 20 secondi Anzi la John Bart È un discorso Che non si può fare Perché ha il modulo Che permette La ricarica Diciamo Dimezzata Però con altre navi Quando lui spara Conti mentalmente Ti aiuti anche magari Con il Sopra Vedete 12 minuti 17 secondi Lui spara So che dopo 30 secondi Mi spara di nuovo E quindi Io per 30 secondi Sono tranquillo Magari calcolate Qualcosa in meno Casomai ha un modulo O scarica di adrenalina Facendo così Avrete sempre La possibilità Di sparare E di aprirvi Quando la nave nemica È in ricarica Ecco Il concetto è quello Quando la nave nemica È in ricarica Cercate di approfittarne Per fare dei danni Qui andiamo a fare 11.200 Alla Kaga Kaga Che sinceramente Non ho ben capito Perché è così vicina Alla mia nave Vedete Qui Ovviamente Non ha una vita Facilissima Noi cerchiamo Comunque Di non farci Prendere Diciamo Non dobbiamo Cadere Nel tranello Di attaccare La porta aerei Perché Se noi adesso Ci concentrassimo Sulla porta aerei Il discorso Che ho fatto Precedentemente Sul Stiamo fermi La virata Destra Sinistra Le navi nemiche Andrebbe Completamente All'area E quindi Potremmo subire Dei colpi Molto Pericolosi Anche se Diciamo Qui ovviamente Sono avvantaggiato Perché so Che ci sono altre persone Che stanno sparando Alla porta aerei Quindi In un modo o nell'altro O con i miei siluri O con i miei compagni La nave Sarebbe stata Distrutta Il nemico Davanti a noi Va a spegnere L'incendio Spegnere un incendio Ci può stare Soprattutto se sei In difficoltà E ti puntano Diverse navi Però Vedete qui Ancora una volta Il colpo Questa volta Mi va a beccare Ma è un danno Che in qualche modo Sono stato Sono riuscito A Come dire Ad assorbire Perché ho chiuso Completamente Il doppio incendio E signori Il doppio incendio Fa male Il doppio incendio Fa malissimo Perché lui Ne ha spento uno Precedentemente Quindi il doppio incendio È costretto A tenerlo E questo si traduce In punti Che noi andiamo a fare Vedete il punteggio Come sta salendo Noi non stiamo facendo niente Tutto il fuoco Che sta facendo Ecco perché ritengo Che il fuoco Sia una delle armi Più letali Dell'intero gioco Perché veramente Se uno fa attenzione Se il nemico Ha la riparazione o meno Tu fai danni A non finire Discorso simile Possiamo farlo Con i siluri Però lì ovviamente Devi beccarlo Con il siluro E il tempo di ricarica Del siluro È maggiore Rispetto a quello Dei cannoni Insomma Dovete un po' Trovare La giusta Alchimia Siamo saliti A 105.000 Danni Danno Abbiamo Tancato Per 760 Un altro incendio A bordo Della nave Nemica Io ragazzi Lo Zao È una nave Che non la cambierei Con nessuna nave Al mondo Può uscire anche La nave Non lo so Esteticamente Poi mi piace Tantissimo Penso di aver speso Parole sotto tutti I punti di vista Per Elencare Le caratteristiche Di un incrociatore Eccezionale Lo Zao È eccezionale Veramente Abbiamo una vita Di 44.300 punti In realtà La vita Vera Dello Zao È inferiore Io qui porto La skill Che mi aumenta La vita Semplicemente Perché mi piace Metterla E mi trovo bene Con quella skill E quindi La metto Poi se voi Non la mettete È diciamo Una scelta vostra Un altro incendio Nono incendio Della partita Nono incendio Vedete qui Con il sesto senso Percepisco I colpi Che arrivano Da parte Della corazzata Americana E vado ad assorbirli Quasi completamente Quindi il danno Viene Molto Molto Diminuito 567 A 600 Hanno un leggerissimo Vantaggio Abbiamo noi Un vantaggio Di navi Vedete Qui dobbiamo Cercare di Martellare Sempre il nemico Con le HE Allora Se non volete Essere in errore Mettete le HE Se mettete le HE Non siete mai In errore Poi ovviamente Dipende Se avete un incrociatore Bello con il lato Mettete le AP E qui Tra l'altro Io porto La skill Che mi dimet Vedete qui Ancora una volta Ho percepito Ho rallentato E i colpi Sono andati Completamente Nell'acqua Porto Con i cannoni La skill Che dimezza Il tempo Di ricarica Se i cannoni Sono completamente Carichi Faccio il passaggio Da HE Ad AP In metà del tempo Ciò Mi consente Di avere Una Diciamo Scelta Di proiettili Sempre Azzeccata Una skill Davvero Incredibile Eccezionale Ancora una volta Vedete che qui Rischio particolarmente Perché mi avvicino Ecco Lo Zao Deve in qualche modo Tenersi a distanza La giusta distanza Però Può mettersi Come dire Non nei guai Dovete cercare Di Sarò ripetitivo Dovete cercare Di capire Quando lui Sta per sparare E di conseguenza Chiudere Il lato Mettere a zero E chiudere Vedete io qua Una bella virata Secca A sinistra Tra l'altro qui Non mi spara neanche A me Ok Pensavo stesse sparando A me Effettivamente È la corazzata Tedesca Che sta provando Il colpo Siamo a 127 Mila danni Con lo Zao Possono uscire Partite da 200.000 Da 250.000 Da 280.000 Non c'è il limite Alla potenza Dello Zao Quando inizia A carburare Durante la partita Può risultare Davvero Inarrestabile Non so più cosa dire Ho detto Veramente Ho fatto un discorso A 360 gradi Vi invito a vedere Ancora una volta Il colpo Completamente Andato a vuoto Da parte del giocatore Davanti a noi Non mi ha colpito Una singola volta Dopo 14 minuti Abbiamo perso 12.000 punti vita E vi vorrei far notare Una cosa Io in questa partita Mi sono Volutamente Esposto Così tanto Se io avessi voluto Sarei stato Più lontano E ovviamente Sarebbe stato Più sicuro Da questo punto di vista La corazzata Aiova Davanti a me Non mi ha sparato più E ha sparato Il mio nemico Dietro Perché forse ha capito Che tanto Non era aggiornata La corazzata tedesca Mi ha sparato Ragazzi Non mi becca Non mi becca E io qui ovviamente Continuo Ad essere Una minaccia Molto grave Per loro Perché non riescono Ad affondarmi E continuo a sparare Qui ovviamente Con il mio compagno Poi Vado a chiedere Una copertura Perché Un'altra cosa Che devo dirvi Mi sono scordato Abbiamo assorbito Siluro Lanciato precedentemente 17.000 punti Sono tantissimi Il fumo Che arriva Telefonato In perfetto Diciamo In perfetta Chiamata Arriva il fumo Di quella Che mi va a coprire Ovviamente Da una situazione Che potrebbe risultare Complicata Lo zao Più si muove Più è difficile Da colpire Più state fermi Più il nemico Potrà capire La vostra virata La vostra giocata E più ovviamente Sarete in difficoltà Abbiamo Tancato Per 1.800.000 Abbiamo Stiamo Abbiamo fatto Dico bene Una kill La quarta Della partita 186.000 Danni Su questa partita Penso che non si possa Dire nulla Giocata in maniera Eccezionale In maniera Perfetta Non so Scrivetemi Nei commenti Sono stato bravo Io O sono stati I giocatori Alleati Che mi hanno mancato Tra l'altro Ricerca Idrofonica Il brindisi Ai siluri A 13.5 km Se ricordo bene E quindi Per evitare Un siluro Dentro il fumo La regola è sempre la stessa Mettete la ricerca Idrofonica È una regola Globale Potremmo fare il kraken Potremmo fare il kraken Con il brindisi Che rimane A 4578 punti 2300 Circa Più incendio Il 14esimo Della partita Di cosa stiamo parlando Una nave Veramente Che Boh Non lo so E Ho finito Gli aggettivi Per descriverla Eccezionale Fantastica L'adoro Insuperabile Devastante Non mi vengono Più le parole Quindi mi raccomando Ragazzi Supportate questa partita Perché secondo me Merita tantissimo Lasciate un bel mi piace Condividete Cerchiamo di farla arrivare A quante più persone possibile Ovviamente non solo questa partita Ma tutto il canale Penso che Che merita Abbiamo subito danni Per 14.000 punti 14.000 Ne abbiamo ancora 30.000 E la partita Ormai è quasi terminata Rimane La Diciamo Qui un errore L'unico della partita Devo entrare Nel punto di cap Per aumentare Il mio punteggio personale Il cap Ovviamente Ci dà Un piccolo sprint Per quanto riguarda Il punteggio personale Spottato il brindisi Prendiamo la mira Cerchiamo di fare il kraken Risultati posto scontro Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao